Nonno alla guida e nonna, siamo in diretta eh, su Facebook. Aiuto! Ciao! Tramonto, il paese d'arte cos'è? Arte. E stanno andando all'isola, come stanno andando? All'isola con Macilina. A far cosa? A vedere i tuoi occhi. Dopo li facciamo vedere? Sì. Vai addosso, papà. Vai addosso. Vai... L'altra. Di andare contro l'onda, papà. Di più. Stai giù, stai giù, Alice. Stai giù. Stai giù... Stai giù. Stai giù. Stai giù. Grazie a tutti.